Si prospetta un interessante sabato di grandi sfide per la Serie A per le gare del sabato della quindicesima di ritorno, nell'anticipo del venerdì il Sassuolo frena la sua corsa salvezza. I romagnoli avanti di 2-0 con la Oriente e Birami, sono stati costretti a subire la rimonta dei padroni di casa. Accorcia Candreva su rigore ad inizio ripresa e nel finale il pari di maggiore. Alle 15 attesa a San Siro per Milan-Lecce, Rossoneri in salute dopo il 2-1 a Firenze mentre i Salentini arrivano. Alla sfida odierna dopo lo 0-0 contro la Roma, che alle 18 sarà di scena nel derby cittadino contro la Lazio Bianco Celesti vincenti 1-0 sulla Juve, completa la parte del sabato calcistico alle 20.45 Empoli Torino locali KO dall'Inter per 2-0, Granata vincenti 1-0 sul Monza.